5, 4, 3, 2, 1, via! 60, dossi in 4 destra, 30, 1 destra lunga, apre, 4 destra lunga, 3 sinistra, non tagliare, e tieni la destra, 30, apre, tornante a sinistra, 50, allenta, 4 destra, soccinale lunga, stringe 2 in 2 sinistra, apre, 30, 6 sinistra, soccinale, 50, non visto, 2 destra, 3 sinistra, non tagliare, in non visto, 2 destra, taglia poco, in 2 sinistra, lunga, stringe, in 2 destra, lunga, apre, stringe, tornante a destra, stringe, in 1 destra, stringe, apre, lunga, in 1 destra, non tagliare, in 2 sinistra, lunga, stringe, apre, 2 sinistra, lunga, stringe, 1, 1 destra, lunga, stringe, tornante a destra, 30, 1 sinistra, lunga, 6 sinistra, tornante a destra, improvviso, apre, 4 destra, lunga, soccinale, dosso, attenzione, 30, 1 destra, intornante a sinistra, in 6 destra, Tieni la sinistra, su 50, 4 destra, stretto, 30, 3 sinistra, sudosso, in 2 destra, 20, 1 destra, lunga, stringe, in 5 sinistra, 4 destra, lunga, soccinale, intornante a sinistra, 4 destra, lunga, soccinale, in 2 sinistra, lunga, su crinale, su arrivo, 30, su salti, 4 sinistra, 4 destra, allo stop, ben fatto. Sì, siamo i campioni, il duro lavoro ci ha ripagato. Ciao, 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 Grazie a tutti